Qualcuno ha lasciato questa sulla mia sedia, geniale, perché mi costringe o ad occuparmi della cartella o a non potermi sedere. Cindy Kramer, vorrei che la vedessi. No, è inutile, carcinoma epidermoide metastatico del polmone, sei mesi al massimo. Hai già visto la radiografia? No, sensazione, è un gioco nuovo, se sbaglio vinci un orso di peluche. Una macchia sulla lastra non significa per forza che sia terminale. Adoro i bambini, sperano sempre. Può essere polmonite, può essere sarcoidosi, può essere... Certo, se i linfonodi lari dell'altro polmone non fossero già ingrossati. Possiamo almeno esaminare altre ipotesi? Grazie. Secondo me polmonite o sarcoidosi, ma direi di fare i test per la tubercolosi e di escludere l'insufficienza cardiaca con gestizia. Le cinque fasi del malato terminale? Esatto. Per me sono solo delle colossali sciocchezze, ma a giudicare dai tuoi occhioni lucidi è tutto più chiaro. E ora va a dire a Cindy come si chiama che sta per morire. Grazie. 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 Grazie.